La Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Porto Empedocle, ha diffuso il bilancio delle attività svolte in soli sei giorni nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro. Attività che si sono svolte dal 4 al 10 luglio scorsi e che hanno interessato i comuni della fascia costiera compresa tra Agrigento e parte di Sciacca. Per ogni turno sono stati 18 i militari impegnati, 3 invece le motovedette utilizzate oltre a un gommone litoraneo e due mezzi terrestri. 86 sono state complessivamente i controlli seguiti in diversi ambiti, 7 invece sono state le sanzioni elevate di cui 5 per violazioni alla normativa sulla baleazione, una per violazioni al codice di navigazione e una per pesca illegale con relativo sequestro di 2.500 metri di rete a Tremaglio. Per chi naviga ricordiamo che il numero da chiamare per l'emergenza in mare è il 1530. Per eventuali segnalazioni si può anche contattare la sala operativa della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Porto in Pedocle al numero 0922 535182. Per le imbarcazioni che dovessero trovarsi in difficoltà invece è sempre attivo il canale radio di emergenza 16 sul VHF.